Sono Gigi, sono nato nel 1951, vengo in questo posto dagli anni 70, quando ho conosciuto mia moglie, mia moglie nativa da qua e di questo borgo mi sono innamorato. Mi chiamo Mongiat Adriano, sono nato nel 1311-42 in questa casa che voi ora vedete. Direi che forse come borghetto, forse è il più bel borghetto del Friuli. Grazie. 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 Grazie.